Ciao, questo è un tutorial per mostrare dove e come devono andare a essere recuperati i compiti che vengono inviati dagli studenti all'interno di Google Classroom. Allora, come sempre, partiamo dalla pagina della nostra posta elettronica. Andiamo in Classroom. Cerchiamo la classe che ci ha consegnato i compiti. Io qui ho creato un compito di prova. Ho ricevuto la comunicazione, vedete, che lo studente della mia classe ha restituito il compito. Cliccherò sul compito che compare qui. Ho di nuovo la verifica che ho assegnato loro. Quindi faccio clic qui in basso, non so se si vede, la pennina di modifica. In risposte, qui compare la mia verifica con le opzioni corrette. Così come l'avevo impostata. In risposte ho il numero di studenti che ha inviato le risposte. Faccio clic, entro nella scheda, mi sposto su individuali e vedrò, vedete, questo si chiamava Prova l'account che io ho creato per fare questi tutorial. E qui vedrete le risposte del vostro studente. Quindi, lo ripeto, faccio clic sul compito che ho mandato e non sul nome dei singoli che trovo qui sotto. Io adesso ne ho uno, ma voi ne avrete 23-24. Quindi clic sul compito. Pennina nello schermo in basso a destra. Risposte, qui ho i grafici, l'andamento statistico, vedete. Mi dice anche quali sono le domande che sono state sbagliate più frequentemente, è una cosa anche abbastanza interessante. Avrò gli individuali e qui ho le risposte alle verifiche per studente e per studente. Adesso rispetto ne ho una sola, ma ne avrò poi tutte quelle relative agli studenti che hanno sottoposto la loro prova. E questo è tutto. Grazie. Grazie. Grazie.